Abbiamo la fortuna di avere tra noi il professor Malloni che oggi è venuto in visita qui a Sofia e questo ci dà la possibilità anche di fargli qualche domanda che può riguardare tanto l'aspetto dei suoi studi e del suo lavoro ma anche il punto di vista del mondo che attraverso il lavoro stesso gli capita anche di frequentare in questo tempo. Allora una prima domanda che è molto utile anche per gli studenti che studiano qui a Sofia anche quelli che magari vedendo questa breve intervista possono anche apprezzare una sensibilità che qui a Sofia esiste ed è il ruolo che secondo lei la religione riveste nella società contemporanea, dentro i luoghi della politica dentro i fenomeni anche della politica internazionale visto che a lei non manca la possibilità di incontrare tante persone che sono soggetti importanti in questi mondi. La mia impressione è quella che noi viviamo alla confluenza fra due fatti che ci dominano. Da un lato siamo all'interno di quello che è un cambiamento climatico peculiare, che è un cambiamento climatico del religioso. Negli ultimi duecento anni l'incontro con la modernità ha prodotto all'interno dei grandi diversi di fede delle spinte e delle controspinte, delle spinte riformatrici, delle spinte di ricerca di pace, delle spinte di ricerca comunitaria e di comunione, ma anche delle spinte contrapposte invece delle direzioni della violenza, delle direzioni del conflitto, delle direzioni dell'odio reciproco e dell'esercizionale, di quello che vogliono chiamare come espressione un po' valore dall'identità delle comunità di fede. Dunque noi vediamo oggi, in un modo particolare all'interno dell'Islam, uno degli effetti di questa che è la degenerazione, l'incubazione di una infezione della violenza, ma sappiamo e devo sapere benissimo che quell'incubazione può venire in modo essenziale a comunità di fede. Non c'è una predisposizione genetica dell'Islam alla violenza, c'è la possibilità intanto di comunità di fede di essere portatrici o di verde o di mare. la saggezza biblica ha sempre insediato che da Caim e Abele in qualche delitto ha sempre a che fare col fumo e con il cielo. L'albero su cui noi oggi votiamo invece è quello di un grande alfabetismo religioso. Proprio i processi di coscientizzazione violenta delle comunità di fede nascono non perché c'è un'intensità di fede maggiore. Per esempio nell'Islam quelli che come loro vengono chiamati elementi radicalizzati non sono per nulla radicali, sono ragazzi vittime di un alfabetismo religioso dominante che alla fine confondono una grande tradizione di fede con qualche rudimentale banalizzazione violenta con cui misurarsi. Davanti a questo il paesaggio politico che è il rettardo dell'alfabeto, quanti ragazzi violenti sia la politica violenta sia quella non violenta, mi sembra bisogno di grandi missioni di sapere e di grandi sforzi per riuscire a recuperare quelle che sono le molteplici tradizioni che ciascuna comunità di fede ha. Perché sia più chiaro a tutti la quantità di bene, la quantità di male che ciascuna comunità di fede può portare e la scelta etica fra l'unica e l'altra possa essere fatta in un luogo di vostra comunità. Mi lascio chiedere un'altra cosa, invece riguardo un po' all'oggettivo ruolo che la diplomazia vaticana ha sempre rivestito e all'apice di questa anche la rappresentatività e la presenza del Papa. Papa Bergoglio è una personalità fortemente riconosciuta, fortemente anche rappresentativa in luoghi che precedentemente sembravano un po' non essere apparentemente frequentabili, anche se poi sappiamo che la diplomazia vaticana ha sempre avuto una grande capacità di arrivare anche laddove tanti stati e persone che ricoprivano che ruoli importanti sembravano non arrivare. Ma questo grande credito di cui Papa Bergoglio è riconosciuto, a che cosa può essere dovuto? Beh, è un grande credito che ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, c'è un credito che riconosce in quest'uomo che è il primo uomo del sud del mondo che raggiunge la posizione di Ligia Cicco globale così forte, così alta come quella del papato e che quindi vede in lui il portatore di una speranza, di un'attesa, di un riscatto, di un'esperanza, di un'uguaglianza, di giustizia che non può essere soppressa. Per gli stessi motivi però è anche il bersaglio di una campagna politico-ecclesiastica, come oggi vediamo, con l'obiettivo per ora molto semplice, di far apparire la Chiesa Cattolica divisa in due, metà con il Papa e che in questa caricatura non dice soltanto una bugia, tutti quanti sanno che la Chiesa Cattolica è con il Papa non solo per definizione, ma anche in questo caso specifico lo è, anche seppur con tante esitazioni o entusiasmi più o meno ingegni. Ma questo tentativo di una rappresentata la Chiesa Cattolica divisa è per rappresentarla in un modo che indebolisca. E oggi è una cosa di cui il Papa si giovane solo la sua azione diplomatica, la sua capacità di costruire delle relazioni inattese, fondamentali, come quella per esempio con la Cina in modo particolare, ma è anche quello di riuscire a sentire attorno a sé un'unità che viene costruita dell'intenzione. Da uomo di cultura e anche da credente, pensando a una vita vissuta a 360 gradi, visto che siamo anche in un luogo di cultura dove si fa cultura, dove si formano dei giovani, per esempio, lei mantiene un ottimismo riguardo a cui siamo vivendo o quali sono i sentimenti prevalenti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.